Romele, Franco Bordo, Dincà, Lauricella, Franco Bordo, Busto, Mirko Busto, Lauricella, non riesce ancora a votare, ci siamo? Sì, bene, dichiaro chiusa la votazione. 385 favorevoli, 24 contrari, la Camera approva, se nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto pongo in votazione l'articolo 3, dichiaro aperta la votazione. Marchi. Cuomo, Brugnerotto, qualcun altro, non mi pare, Brugnerotto ancora no, ci siamo. Dichiaro chiusa la votazione. 390 favorevoli, 24 contrari, la Camera approva. Articolo 4, dichiaro aperta la votazione. Fratoianni, Covello, qualcun altro, Dincà, Dincà sta votando. Ecco, hanno votato tutti, sembra di sì. Dichiaro chiusa la votazione. 387 favorevoli, 24 contrari, la Camera approva. Passiamo al voto finale, fa contare di intervenire per dichiarazione di voto la nostra collega Fitzgerald Denissoli. No? Va bene, rinuncia la collega Oliaro. Dichiaro il voto favorevole di scelta civica e chiedo l'autorizzazione a depositare l'intervento. Autorizzata. Grazie.